La rabbia è contenuta per tutta la mattinata. Piazza Montecitorio blindata. La paura di non poter manifestare sotto il palazzo che discute e vota la loro riforma era serpeggiata lungo tutto il corteo. A migliaia si sono riuniti dalle università, dai licei, cortei ufficiali, assemblee spontanee con un unico obiettivo raggiungere questa piazza. Noi siamo qui in maniera democratica, protestando con le nostre idee, il nostro dissenso. Non siamo assolutamente gente violenta, questo vorrei sottolineare. Ce la farete a bloccare questa riforma? Secondo me è possibile grazie all'intervento di tutte le persone che sono qui oggi e secondo me ce la faremo. che è tutto completamente chiuso, quindi profondamente ingiusto, anche perché non c'è nessun segnale di pericolo. Le vie di accesso al centro sono sbarrate in entrambe le direzioni, neppure la telecamera può passare. Il silenzio irreale che si respira per le strade accompagna il corteo dei ragazzi. Le facciamone magica, siccolina e percina. E facciamo più applausi! E facciamo più applausi! Ci bloccano il futuro! E incontriamo le città! E questa è la risposta dell'università! Non vogliamo questa riporta! C'è più pavora questo disprezzo che il governo ha per la scuola e per l'università in generale. C'è più pavora questo disprezzo che il governo ha per la scuola e per la scuola e per la scuola che il governo ha per la scuola e per l'università in generale. Se ci toccano il futuro, noi blocchiamo la città